Tutto pronto per la sfida di sabato pomeriggio tra Gelefici e Mazzarese. Per i gialloneri potrebbe essere l'ultima gara casalinga nel caso in cui la squadra di Mr. Pensabene riuscisse a scampare l'incubo play-out. Purtroppo le probabilità che ciò accada sono diminuite con i risultati dell'ultima giornata, con i gelesi usciti sconfitti per 3-1 sul campo del Favara e risultano leonfortese vincenti contro Casteldaccia e Nissa. Mr. Pensabene potrà contare su quasi tutta la rosa, fatta eccezione degli acciaccati di Dio e Piazza non al 100%. La mazzarese lotterà per ottenere il quarto posto distante di una sola lunghezza ed appartenente al Don Carlo Misilmeri di Mr. Aronica. Tornando alla zona play-out ci saranno durante la prossima giornata ben due scontri diretti. La leonfortese ospiterà infatti la Casteldaccia, mentre la resuttana San Lorenzo giocherà contro l'oratorio San Giro e Giorgio. Abbiamo due finale per completare un po' la stagione, non è una partita facile, abbiamo un avversario in salute, nonostante Domenica abbia perso in casa, il mazzarese è una buona squadra, sta lottando anche loro per i play-off, quindi abbiamo una battaglia e cercheremo di fare la partita nostra e poi vedere un pochettino cosa succede dall'altra parte. Abbiamo due acciaccate, non sappiamo se possono recuperare di Dio e anche Piazza che lamenta un fastidio al polpaccio e quindi speriamo di poterli recuperare, sono giocatori importanti nell'economia del gioco. Domenica abbiamo sbagliato il secondo tempo, però la prima parte della gara abbiamo fatto anche bene, abbiamo dato continuità su quello che abbiamo fatto da Grigenti. La squadra è in crescita, è normale che la rincorsa è stata enorme, quella nostra, quindi non è facile mantenere, alla volta si paga, ci può stare che tiri il fiato, abbiamo un avversario difficile, però penso che la squadra basta ricompattare e recuperare un po' di energie, più che altro mentale che non fisiche, però devo fare sempre un plauso per quello che hanno fatto, siamo ancora nel gruppone, abbiamo due partite, abbiamo il dovere di crederci e giocarci.